cari amiche e cari amici buongiorno oggi 11 novembre 2022 san martino auguri a tutte le martine e i martini bella mattinata oggi abbiamo sia il sole che la luna wow maledetto adesso ti aggiusto io siamo sgombrato il campo è un robo piuttosto insidioso porto di tra con allegati cordezoli oh che bel sole quasi quasi lo sfruttiamo un po' e oggi si che ci facciamo un po' di abbronzatura ah mi sento un re riposo finito si ricontinua a correre oddio a correre è un parolone chi l'ha stabilito che questo debba essere esclusivamente un contenitore per banane cordezoli questa è la prova di ciò che appena detto cari amiche e cari amici anche oggi abbiamo terminato per voi che oggi è san martino andiamo tutti a casa e ci facciamo martini martini martino ciao a tutti